Un commento su questa prima sua vittoria con la Genova Calcio? Finalmente è arrivata dopo tre partite. Niente, i ragazzi oggi si può dire che hanno fatto la partita perfetta. Tutto quello che è stato provato in settimana l'hanno messo sul campo oggi. Dobbiamo continuare così e fino alla fine fare più punti possibile e poi fare i miei conti. Quindi fare più punti possibili. Qual è il cambiamento che si sente di aver dato a questa squadra? Il gioco penso che tanto merita ancora del mister precedente. Tranquillità penso, un po' più di aggressività in mezzo al campo. Penso la tranquillità è la cosa fondamentale. Oggi l'esordio di un 2001, tu sei un classe 99. Ti puoi ritenere soddisfatto per le prestazioni di queste giornate, di questa e della settimana scorsa? Sì, sono molto soddisfatto. Siamo tanti giovani. Ringrazio il mister che ci dà l'opportunità di farci giocare. Continuiamo così ad allenarci bene e vogliamo vincere queste ultime partite.